Ciao ragazzi, sono Mark e oggi siamo qui di nuovo su MotoGP15 perché siamo arrivati al round numero 3 Ho cambiato il casco, ho cambiato un po' di accessori per guidare E ci stanno abbastanza bene, spero, spero vi piacciono Siamo così Dai, più o meno siamo così, non siamo troppo brutti Perché mi dicevi frenarsi così lento? O scendo troppo Mi sono dimenticato di andare all'ingegnere di che son letta scende in piega Vai così, accelera subito Siamo in Argentina, Termasterio Kondo Siamo arrivati qui dopo la deludente gara ricca di errori Ovviamente dobbiamo farla veramente bene questa curva per riuscire veramente molto ma molto veloci Ora l'intertempo non li possiamo più vedere perché Come hai detto queste, non abbiamo fatto passare il tempo Mi sono dimenticato Vai Comunque questa pista dovrebbe essere più consono a noi Anche se è una pista molto veloce Il nostro problema è che sono le staccate Che stacchiamo così presto che ci recuperano tutto il nostro vantaggio Per questo dobbiamo essere bravi nello staccare Nel fare molto bene le curve rispetto ai bot insomma All'IA Dai Dunque la curva non c'è tanto bisogno di accelerare subito Tu dici accelerare subito ma se appena acceleri subito devi decelerare quindi Sta curva è bastarda Perché devi andare a allargarti e poi a stringerti Va bene Aspetta Ma hai finito qui? Hai finito qui il giro, ok Ma ne faccio un altro ragazzi Adesso vi ricordo abbiamo il telaio potenziato E ci vediamo la gara Bella Allora ragazzi eccoci qui a fare lo sviluppo della moto Io migliorerei I freni Miglioriamo i freni dai Miglioriamoci un pochino i freni Anche se non arriveremo al livello successivo Andiamo subito a fare salta gara Non ho migliorato il mio tempo Anzi a diritto l'avevo anche peggiorato Sono dodicesimo Dai almeno sto davanti al mio compagno di squadra dai Almeno questo Ok ragazzi siamo qui Pronti, carichi Per fare la gara in Argentina Partiti ragazzi Iniziato il Gran Premio adesso Voglio rimanere più di qua E Cercare di fare la curva appunto all'interno Mi appoggio tanto Appoggio a tutti questi Per il problema di cosa sono all'esterno Non più Simeon Mi scusi Simeon Questo è quello di GTA V ragazzi Quello è vendere macchine Un rinz Che abbiamo mandato a lungo Vaffanculo Vaffanculo Così Le battaglie con rinz Tanto potevo anche accelerare di più Ormai altrimenti se ne è andato Ah ho sbagliato Ho sbagliato Ho sbagliato Forse no Forse no Se ho sbagliato Non tantissimo Ah ma quel rinz mi stava per far cascare Ah l'ho fatta più in mare Sta urba Battaglie con rinz E ora ragazzi Io qui a MotoGP Bisogna Andarci giù pesante No Come ci vanno pesante loro Ci vanno pesante anche io Lo sto ammenando Rinz Ritorno all'interno Come vuoi all'esterno E poi ormai la urba è fatta E poi ormai la urba è fatta male Anche Lutti si insinua ragazzi Incredibile Sicuramente mi devo ricordare di farla Rimanendo proprio all'interno Qua accelerare Accelerare Ma non così Da qua dai Vuoi tanta precisione per fare queste curve Ho mancato troppo Attenzione L'attacco di Lutti Che c'è Forse non va a segno Mi sa di sì forse Vai accelera ora Vai Dobbiamo riprenderci Rinz Nella prossima curva L'interno signori L'attacco Che non va Ma ci siamo avvicinati tantissimo Bene così Questa curva Non freneremo mai Non è vero Fammi frenare Va 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 Ho decelerato Non ho frenato Ok È una gara sudata Speriamo di non sbucciarci i ginocchi Il nostro Mark sbucciato Per fortuna Abbiamo la fisica standard Così possiamo accelerare Subito In curva Anche Senza cadere La curva è andata bene Questa però Va bene No No Abbastanza Sento Io ragazzi sento proprio la gomma posteriore Che Strigola Fatta larga Ma questo gioco ragazzi È difficilissimo Cioè non capisco perché Ma Sbagli qualcosa Ti superano in due È difficilissimo E c'è anche un livello maggiore Morbidelli T'ho visto sai Se quello è la volta scorsa Mi ricordo Merda Mi ricordo di te Il problema è che Si dà Do troppo Fiducia a queste frecce Ma in realtà Non bisogna Darci troppo fiducia No Riusciamo belli veloci Per quanto possiamo riuscirci Prendiamo la scia Un po' No No Non ce la facciamo la scia Siamo a 5 decimi A quello davanti Eh Se lui ti ha superato Morbidelli Che adesso è proprio davanti a noi Attenzione Che è cascato Ah entrambi Va bene Meglio 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 ragazzi E quelle volevo Lo so ragazzi Non si fanno Queste cose Non vanno fatte Bisogna sempre Allacciarsi il casco Quando si guida Ma non in questo MotoGP Che sono tutti bastanti E delle merde Non dobbiamo farci Inchiappettare Da questi due qua dietro Attenzione a questa curva Che è difficilissima È l'ultima Principalmente Merda ragazzi Merda Attenzione L'uscita di curva Non va bene Finita? No Finisce dopo Ok Certi ragazzi Oh Buttalo via Oh Va bene Non va tanto male Va bene Va bene Come sono arrivati Poi quell'altro due Che lo buttano giù Morbidelli undicesimo E' l'ulti decima Oh E' andava anche bene Ho buttato giù Oh Va bene Dai Sembrava esistire Il campionato Piloti Siamo a meno 24 Dall'House Già in una Dopo tre gare Siamo a meno 24 Dal primo posto Ragazzi Si mette molto male Ci abbiamo davanti Zarco La sfida È andata sopra Come Castiglia Costruttori Abbiamo preso Un 18.000 punti Va bene Oh Vabbè L'obiettivo Era il quindicesimo Ragazzi Questo ci tengo A rivoldarlo E Niente ragazzi Il video finisce qui Spero che questo video Vi sia piaciuto Se così fosse Mi sa mettere un bel Mi piace A commentare A condividere Fermi tutti Scegli Timo Sponsor Lo posso già Scegli questo Boh no Questo non è male Questo è un po' Più di Melda Melda Questo pure Eh No Oddio Questi sono forti La speed up racing Attenzione Poi c'è Questo che fa un po' Schifo La Petronas Vabbè Già il nostro sponsor In Formula 1 Vabbè Nient'altro Team Stanley Vabbè Comunque c'è Ho questo Io sceglierei questa Che moto c'ha Una Kalex Mentre la speed up C'ha SF15 Boh Qual è meglio Me ragazzi Questa Io Questa italiana Speed up Però a me Garbava più questa Prima ho visto La io Dai io scelgo questa Dai Vai vai Mi garba anche più colori Scelgo questo team Ma non è che mi ci fa andare subito Non credo Non che ragazzi Comunque Spero che Abbiate La mia Scelta E se così Foste Mettere un bel Mi piace Condividere E commentare Noi ci vediamo Col prossimo video Bene ragazzi Ciao